Da Giuliano alla conquista dell'Italia, macinando chilometri a velocità impensabili. Questo è Jenny Romano, che anche quest'anno sarà tra i favoriti al titolo nazionale della Supersport. Niente, puntiamo comunque a vincere il campionato, siamo competitivi sia io che comunque mi sono allenato durante quest'inverno molto bene e anche la squadra che corro quest'anno, il team rosso e nero, che sono comunque ad un altissimo livello, che mi permettono comunque di stare lì davanti. Sì, sono passato a questa nuova categoria perché, come ho detto prima, ho trovato una nuova sistemazione in questo team nuovo che mi ha permesso appunto di avere una moto competitiva e quindi per questo ho scelto di passare di categoria perché comunque, avendo una moto competitiva, posso esprimere il mio valore al meglio. L'emozione per un giovane è di girare nei luoghi che hanno reso grandi piloti incredibili come Valentino Rossio, che si stuone, è davvero grande. Alla prossima gara a Mugello, che emozioni ti provoca andare in questi circuiti così storici dove tanti piloti di questo sport hanno fatto la storia? Sì, no, è sempre una bellissima sensazione comunque girare lì dove le gare dove vedi alla fine che c'è la MotoGP e la Superbike, quindi è bellissimo. Poi comunque il Mugello è la mia pista preferita e quindi proprio per questo la prossima gara ci tengo in particolare al Moto. Un occhio, infine, alla prossima gara! E poi per quanto riguarda gli avversari, quest'anno ne siamo in parecchi, siamo 6-7 che comunque ce la possiamo giocare e come ti ho detto prima, alla fine non ci stiamo impegnando per fare il meglio.